Si è concluso ieri a Caltanissetta l'ultimo dei sette congressi di zona dei testimoni di Geova dal tema Non ti arrendere. I congressi che si sono tenuti in Sicilia dall'1 al 22 luglio a turno hanno ospitato in tutto 15.000 testimoni di Geova provenienti dalle varie province. Quattro congressi si sono svolti nella sala dell'assemblea dei testimoni di Geova a Caltanissetta in Contrada Canicassè, tre invece in provincia di Siracusa. Sicilia TV è stato presente all'ultimo congresso, quello dal 21 al 23 luglio, dove erano presenti i fedeli provenienti dalle province di Caltanissetta, Palermo e Trapani. Sono stati esaminati, grazie anche a 45 supporti video, diversi principi biblici che hanno fornito consigli pratici per continuare a camminare secondo le norme di Geova. I presenti hanno ricevuto l'incoraggiamento necessario per riuscire a rimanere leali e integri nonostante le prove, dalle debolezze umane alle malattie, dall'età che avanza alla perdita di una persona cara. Molte persone purtroppo nella vita non riescono a raggiungere e a realizzare i propri obiettivi, i propri ideali. È proprio per questo che alcuni addirittura arrivano al suicidio. Il tema di questo congresso, non ti arrendere, nasce proprio da questa constatazione. È il desiderio di ogni servitore di Dio, ogni testimone di Geova, quello di continuare a perseverare nonostante le avversità e di riuscire a continuarlo a fare per sempre, servendo il nostro creatore Geova Dio. È una dimostrazione del fatto che questa mattina decine di persone si sono battezzate come testimoni di Geova. Ombretta Formisano, qual è il ruolo della donna all'interno della congregazione dei testimoni di Geova? È un ruolo molto appagante, siamo molto contenti noi donne di quello che la nostra organizzazione ci fa compiere. Tutti noi siamo impiegati nell'opera di predicazione, chiunque, dalla bambina fino alla persona anziana e molti di noi lo fanno anche a tempo pieno. Io per esempio è più di 30 anni che ho deciso di svolgere quest'opera di predicazione dove c'è più bisogno e quindi con mio marito ci spostiamo, infatti noi siamo Liguri ma attualmente siamo nella città di Palermo proprio per aiutare il nostro gruppo di Palermo Mondello. Poi chi di noi donne all'interno della nostra organizzazione ha capacità o impegni particolari come chi è avvocato, ingegnere, architetto eccetera può essere utilizzato all'interno delle nostre filiali per tutte le attività che vengono svolte. Se no comunque ognuno di noi veramente si sente comunque partecipe e appagato in tutto quello che comporta la vita della nostra congregazione. 52 gli oratori che si sono succeduti per trattare il tema in questi tre giorni. I loro discorsi facevano parte di ben otto simposi sotto temi dell'argomento principale. Sabato 22 luglio mattina ci sono stati anche i battesimi, 43 nuovi testimoni sono scesi nelle acque battesimali, 119 in tutto nel corso dei sette congressi. È stata entusiasmante per i più piccoli la presentazione del nuovo libro Impariamo dei racconti della Bibbia. Avvincente è stata pure la visione del film in tre parti, una per ogni giorno, ricordate la moglie di Lot, che ha messo in guardia dal laccio della ricchezza per il serio pericolo di perdere di vista i valori spirituali.